Per sconfiggere quel demone Ascoltami, devi seguire le parole di Zafina E' importante che tu torni all'origine Jim, omaeには omaeだけがなせることがある Kimiはもう一人じゃない 我々にも花を持たせてくれたマリ E' of course, I'm not sure E' of course, I'm not sure Jim, and I will go I'm not sure 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 Musica Osservalo Ora, inizierò il rituale per esorcizzare il demone Rilascio del sigillo Tch... 귀찮지만 godruchu-ci ... ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti 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 Adesso Grazie a tutti Grazie a tutti